Oggi vi porto a scoprire Teghise, un piccolo paese che si trova nella parte centrale dell'isola di Lanzarote. Il centro storico, Isola Pedonale, offre diverse cose da visitare e scoprire, a partire dai suoi vicoli caratteristici per passare attraverso la piazza principale e la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, la chiesa principale dell'isola. Interessante è la visita al Museo del Timple, strumento musicale tipico delle isole canarie. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro e la visita dura poco meno di un'ora. Sempre nel centro di Teghise, l'Italia è la visita. Teghise si trova il piccolo museo dell'Aloe. L'ingresso è gratuito ma personalmente non l'ho trovato molto interessante. Nelle sale del castello di Santa Barbara, appena fuori Teghise, si trova il museo della pirateria. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro e, attraverso modellini, video e pannelli esplicativi, si può ripercorrere la storia della pirateria dell'arcipelago canario. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro e, attraverso la pirateria dell'arcipelago canario. Il biglietto d'ingresso costa 3 euro e, attraverso la pirateria dell'arcipelago canario. il biglietto d'ingresso costa 4 euro e, attraverso la pirateria dell'arcipelago canario. Grazie Don